ora 29 per loro 2 ore e 50 quasi nella palatona 4 ore e 50 bellissimo questo unico liberatorio ciao ricardo mi sa che il tuo video era solo 2 ore e 50 1 ore e 50 1 ore e 50 1 ore e 40 1 ore e 51 1 ore e 50 2 ore e 50 unico liberatorio Grazie a tutti.